Un trentenne residente ad Urbino impiegato è stato denunciato a piede libero per detenzione e coltivazione ai fini di spaccio di marijuana. I militari del nucleo radiomobile dei carabinieri di Urbino che si sono presentati nel cuore della notte scorsa nella sua abitazione come atto finale di un'attività investigativa mirata sul mondo delle sostanze illecite e del loro commercio si sono trovati di fronte ad una vera e propria santa barbara della cannabis sequestrati oltre 80 kg di marijuana conservata sotto vetro ed in contenitori di plastica lampade alogene bilancini di precisione ventilatori termometri digitali essiccatori e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi ma ispezionando i locali posti su più livelli della casa dove l'uomo risiede poco fuori il centro della città i carabinieri si sono imbattuti in una grow room termine tecnico che sta ad indicare una specie di serra tappezzata con pannelli fonoassorbenti dove erano state messe a dimora 113 piante a vari step di crescita compreso tra gli 80 centimetri ed il metro e 20 di altezza ora tutto il materiale sequestrato verrà sottoposto ad analisi chimiche e tossicologiche per valutare la percentuale di THC che non deve superare la soglia del 6 per cento per considerarsi legale presente e valutare quindi i quantitativi che rientrano nella soglia e quali invece sono fuori legge ma per gli investigatori non ci sono molti dubbi il materiale ritrovato e ora a disposizione della procura di urbino solo in parte è legale grazie 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 grazie